Grazie a tutti. Per controllare in modo particolare le zone più sensibili come i capoline degli autobus e le principali fermate del metromare. Grazie anche all'ausilio dell'unità cinofila, gli agenti riccionesi hanno scovato due utenti del metromare in possesso di droga. Salendo nei pressi della fermata Alba hanno fermato un 35enne di nazionalità marocchina residente a Rimini con 18 grammi di sostanza stupefacente. Al capolinea della stazione è stata trovata invece droga addosso ad un 19enne operaio di origine nigeriana residente ad Asti. Entrambi sono stati segnalati alla prefettura. Controlli anche sulle strade, in particolare nelle aree centrali, in piazzale Curiel e in viale Torino. Cinque le violazioni per guida in stato d'Ebrezza ma con un caso particolare. Un conducente infatti ha fornito generalità false rendendo necessario un fotosegnalamento in questura dove si è scoperto che, oltre ad aver alzato il gomito, guidava anche senza patente. E adesso ci spostiamo a Rimini. Dopo una serie di aste andate deserte ha trovato infatti un nuovo proprietario, l'area Ex Amir di Via Dario Campana. Ad acquisire l'è stato il Comune, che ha già in mente il progetto di riqualificazione. Vediamo. Si prospetta una nuova vita per il complesso Ex Amir, o Ex Forlani, in Via Dario Campana a Rimini, a ridosso del Parco Marecchie e del Centro Storico. L'area, fino al 2006, sede era, è stata acquisita dal Comune al prezzo di 1.530.000 euro, rispetto ai 9 milioni che erano stati fissati alcuni anni fa, quando il complesso andò all'asta per la prima volta. Poi, una serie di aste deserte, fino a quella di fine settembre, quando è arrivata l'offerta, unica presentata, da parte dell'amministrazione riminese. L'area, di oltre 12.000 metri quadrati con tre capannoni, versa in condizioni di forte degrado. Fino ad alcuni anni fa apparteneva alle imprese del costruttore Giorgio Forlani, che l'aveva acquistata per oltre 8 milioni proprio da era. Dopo il crack delle aziende, il Tribunale ha messo all'asta il complesso, ma ci è voluto parecchio tempo prima di trovare un acquirente. E nell'area non sono passati inosservati, nel corso degli anni, atti vandalici, spaccio e occupazioni abusive. Ora, finalmente, si può guardare al futuro. L'amministrazione sembra intenzionata, infatti, a realizzare nell'area la sede di alcuni uffici comunali, risparmiando così sugli affitti, ma dovrebbero essere realizzati anche spazi verdi e nuovi parcheggi, oltre 300, per dare un po' d'ossigeno al problema sosta del centro storico. Primo step, ovviamente, l'abbattimento dei capannoni fatiscenti. Ci spostiamo sulle strade. Sono infatti iniziati a Riccione, nella mattinata di oggi, i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria tra via Circonvallazione, la Statale 16, e viale Abruzzi. Sostituirà il semaforo in una zona che ha spesso registrato criticità e incidenti. La prima fase dei lavori riguarda la carreggiata di via Circonvallazione, direzione viale Cassino, con durata prevista di tre o quattro settimane, salvo imprevisti meteorologici. È stata predisposta un'apposita segnaletica, con tutte le indicazioni utili agli automobilisti. Il traffico sarà regolato a senso unico alternato su via Circonvallazione, con impianti semaforici, fino all'apertura della nuova rotatoria. E poi tutte le indicazioni, anche su viale Cassino, che resta invece chiusa al traffico. L'accesso è consentito solo ai residenti e a coloro che sono diretti alle attività economiche da corso Fratelli Cervi. Una modifica alla viabilità che avrà comunque degli impatti sul traffico durante i lavori in corso. Nei giorni scorsi l'acquario di Cattolica aveva aggiornato sulle condizioni di cenere. La tartaruga, che da alcuni mesi è al centro di un progetto di recupero dopo un grave incidente, Le associazioni ambientaliste però contestano le modalità della riabilitazione e ieri mattina è andato in scena un presidio davanti alla struttura. Vediamo. Liberiamo cenere. Le associazioni ambientaliste locali e nazionali guidate dalla LAV hanno tenuto un presidio davanti all'acquario di Cattolica per chiedere la liberazione della tartaruga Caretta Caretta, ospitata dalla struttura, nell'ambito di un progetto di riabilitazione. Cenere, ricoverata da oltre quattro anni in un centro di recupero tartarughe marine nel Ravennate a causa di una ferita da elica al carapace e sottoposta a ben 11 interventi chirurgici, presenta una paralisi alle pinne posteriori. Da tre mesi si trova nell'acquario di Cattolica per seguire un percorso che le permetterà di recuperare la mobilità nuotando solo con le pinne anteriori. Migliora di giorno in giorno, ha spiegato alcuni giorni fa la responsabile del progetto, Sara Segati, e si avvicina al suo futuro ritorno in mare. Le associazioni però non sono convinte e puntano innanzitutto il dito sul fatto che la tartaruga sia visibile ai visitatori dell'acquario nonostante la Convenzione di Washington ne proibisca l'esposizione a fini commerciali. Un'esposizione, secondo l'acquario, al solo fine di sensibilizzare le persone. Inoltre, sopralluoghi effettuati da biologi marini ed esperti volontari, scrivono sempre gli ambientalisti, avrebbero messo in luce che Cenere non è in alcun modo monitorata durante tutto l'orario d'apertura dell'acquario, anzi sarebbe sottoposta a schiamazzi e disturbi da parte del pubblico e si troverebbe in un ambiente artificiale privo di spazi ampi per nuotare e muoversi. Non ultimo, le associazioni sottolineano le negative implicazioni educative che abituano così adulti e bambini a considerare l'animale come oggetto di divertimento avulso dal suo habitat naturale. L'AV, insieme alle altre associazioni locali e nazionali, chiede quindi di predisporre una commissione veterinaria che determini il percorso di riabilitazione per la tartaruga in un luogo riservato o, se compatibile, il suo immediato rilascio. Campolavoro una serata per raccontare le missioni e intanto arrivano i dati ufficiali totali del 2024 con una raccolta da record. Venerdì 25 ottobre alle 21 in Sala Manzoni, i volontari del Campolavoro ascolteranno le testimonianze di chi usufruisce della loro fatica e la serata sarà anche l'occasione per presentare il progetto a mini. Intanto arrivano i dati, quelli complessivi relativi alla 44esima edizione del campo che ha fruttato quasi 256 mila euro. E adesso apriamo un'ampia pagina dedicata allo sport. Partiamo dal calcio. Ieri il Rimini era di scena sul campo dell'Arezzo e è arrivato un pareggio in rimonta. Vediamo. Dopo la sconfitta interna con la SPAL, il Rimini fa visita all'Arezzo dell'ex allenatore Troise su un campo stregato, solo una vittoria in 18 precedenti. Busce è in emergenza, 5 giocatori assenti. Tra infortuni e squalifiche non ci sono infatti Cioffi, ma la grida Chiarella, Bellodi e Devitis. Al quinto si vede il Rimini, l'Angella recupera una palla e calcia, violentemente con il destro, pallone sul fondo. Al nono corner per gli ospiti, Svetta Gorelli, pallone deviato che finisce di poco sopra la traversa e proteste riminesi per un possibile fallo di mano di Gigli. Al venticinquesimo l'Arezzo però passa in vantaggio, su un cross dalla destra di Gaddini, Pattarello fa sponda, probabilmente commettendo fallo. La palla finisce a Ogunseie che mette dentro sotto porta. Al trentacinquesimo l'occasione migliore per il Rimini, cross di Falbo, testa di Cernigoi e pallone al lato di poco. Al decimo della ripresa il pareggio del Rimini lo segna Longobardi, con un guizzo in area dopo una conclusione di Parigi respinta da Trombini, secondo gol in stagione per il numero 28 riminese, alla sua prima stagione in bianco-rosso. Al quattordicesimo, brivido per il Rimini, con Meghelaitis che rinvia addosso a Colombi un traversone dalla destra rischiando l'autorete. A sette minuti dalla fine, Rimini pericoloso su corner con Gorelli, ma il suo colpo di testa trova la provvidenziale deviazione di un difensore. A un minuto e mezzo dal novantesimo palo dell'Arezzo, punizione di Settembrini deviata da un bel colpo di testa del nuovo entrato Gucci, che procura un brivido sulla schiena dei giocatori ospiti. Scampato pericolo per il Rimini, che al tripice fischio raccoglie il nono punto in trasferta su 12, con l'obiettivo di migliorare il rendimento casalingo sin dalla sfida alla Pianese di sabato prossimo al Romeo Neri. E allora sentiamo anche le parole nel dopogara del mister bianco-rosso Antonio Boucher. Bisogna fare un plauso a tutti i 22 in campo, perché è stata una bella partita e ho fatto i complimenti all'Arezzo, all'allenatore Torriso a fine partita, perché? Perché sono una gran bella squadra, una squadra tosta, una squadra che ha qualità, giocatori importanti, quindi il lavoro che hanno fatto i miei ragazzi va sottolineato, perché partire in svantaggio su qualche episodio, purtroppo è successo anche domenica scorsa, e questi ragazzi non mollano con la buona volontà, cercare sempre di giocare palla a terra, fare tanta fatica e poi arrivare a un risultato positivo credo che avvale ancora di più la prestazione che hanno fatto i miei ragazzi, quindi sono contento soprattutto per la squadra, che gli deve dare ancora più forza. L'ultimo passaggio, che a volte anche se prendi un po' più di campo devi essere sempre lucido, noi per due o tre situazioni, l'ultimo con l'ingresso di Ubaldi, che ha avuto due palle, una se non erro all'Inas a Mega e un'altra sul primo palo che ha alzato la palla, credo che se quelle due situazioni riesce a essere un attimino più tranquillo, e si parla di uno che era entrato da pochi minuti, ci sta che magari quell'ultimo passaggio poteva andare a buon fine, però ecco, con i secconi massimo è poco lontano, io vedo veramente la grande volontà che hanno avuto i miei ragazzi per riacciuffare la partita e per portare a casa un risultato positivo. Le buone notizie arrivano però dalla palla a spicchi, quindi parliamo di basket, di una riviera banca basket Rimini che ieri sera ha vinto lo scontro di vertice con l'Urania Milano, entrambe le formazioni fino alla partita di ieri erano imbattute, 4 su 4, adesso solo per Rimini, vediamo. 3 su 3 per Rimini, 3 su 3 per Milano e scontro al vertice al Flaminio. Riviera banca parte bene 4 a 0 dopo i canestri di Johnson e grande. La tripla di Amato e il gioco da 3 punti di Poz regalano il primo vantaggio ai Lombardi, 8 a 9. Di Marini con un'azione da 3 punti, il controsorpasso 21 a 20. La bomba di Tomassini fissa il 27 a 24 del decimo. 4 punti di Gentile e una tripla di Leggio valgono l'Urania un 7 a 0 che la porta sul 27 a 31. 5 punti pesanti di Amato, canestro sul suono della sirena di 24 secondi e tripla segnano il più 5 ospite, 33 a 38. Marini prova a riavvicinare RBR, 37 a 40. Un canestro con fallo subito di Udano fa però toccare a Milano il più 6 con cui si va all'intervallo lungo, 37 a 43 al ventesimo. Alla rientro Rimini si rifà sotto con Marine e Johnson, 41 a 43. Ma Amato e Gentile ritoccono il massimo vantaggio Meneghino, più 7 sul 41 a 48. Tomassini fa canestro ma fa temere un nuovo infortunio. Grande risolve un'azione difficile e la tripla dall'angolo di Masciadri riporta tutto in parità, 50 a 50. Ma Milano reagisce con un 8 a 0 firmato, tanto per cambiare, Gentile Amato, con Cavallero a completare il parzale da Leonetta, 50 a 58. E Maspero fa toccare il più 10 agli ospiti, 54 a 64. Ma la reazione di RBR è devastante. Break di 17 a 0 aperto da Marini, alimentato da Numba e con gran mattatore Tomassini. I suoi 5 punti di fila riportano il punteggio in parità, 64 a 64. Prima che si prenda la scena Camara, autore di 7 punti, uno dietro l'altro, 71 a 64, a 4 minuti dalla fine. Ma la partita è ancora tutta da giocare, perché con un 7 a 0 l'Urania torna in parità, 71 a 71 dopo la tripla di Amato. Da 3 colpiscono anche Grande, 74 a 71, e Tomassini, 77 a 73. Gentile è l'ultimo ad arrendersi, chiude da top scorer con 25 punti. Ma il finale vede Marini mettere al sicuro il risultato dalla Lunetta, con un glaciale 7 su 7 che lo porta a quota 24. Finisce 84 a 76. Quarta vittoria di fila per Riviera Banca, che con i suoi 8 punti rimane da sola in testa alla classifica. E sentiamo anche le parole di coach Sandro Dell'Agnello, ovviamente soddisfatto per il rendimento dei suoi ragazzi. Siamo felicissimi, perché oggi la partita, secondo me, era oltremodo complicata, perché abbiamo giocato, il nostro personale punto di vista mio e dello staff, contro la squadra migliore del momento. Non stiamo dicendo che è la squadra migliore del campionato, ma la migliore del momento probabilmente sì, basta anche andare a vedere il loro rendimento e le loro cifre, al di là delle tre vittorie consecutive che avevano anche loro. Abbiamo sofferto un bel po' nel primo tempo a prendere le misure, però avevamo deciso una cosa chiara. Siccome Gentile e Amato sono molto bravi a realizzare, ma a coinvolgere i compagni con gli assist. E accanto a Gentile e Amato ci sono sempre due o tre tiratori da tre punti. Avevamo deciso, tra virgolette, di far sbizzarrire un po' Gentile, ma era meglio che facesse, sempre tra virgolette, 30 punti lui e non 15 punti a testa tutti. Lui se ne è un po' approfittato, perché speravo che sbagliasse qualche tiro in più. Comunque alla fine ha fatto 11 su 21, che è accettabilissimo. Noi avremmo potuto fare un pochino meglio in difesa nel primo tempo, nel secondo siamo stati fantastici, in attacco e in difesa per la voglia di sacrificarsi e lottare insieme. Non dimentichiamo che i nostri risultati fanno passare in secondo piano e che per adesso stiamo giocando praticamente senza un americano. E in chiusura un rapido sguardo al meteo, giusto per vedere che sia per il pomeriggio di oggi ma anche per la giornata di domani, come recita anche la grafica del sito di Arpae Emilia Romagna, sono previste condizioni di cielo tutto sommato sereno, con qualche velatura, qualche annuvolamento, ma un clima decisamente piacevole in queste due giornate. Noi siamo arrivati in conclusione per quanto riguarda il nostro appuntamento con l'informazione che torna questa sera alle 19.15.20.15. Grazie di averci seguito e buon proseguimento con Icaro TV.